Un diuretico in commercio da tempo potrebbe essere la soluzione per curare la covid e quanto hanno scoperto dei ricercatori delle università di Bari e di Roma. Sentiamo il servizio. Gli studi ora attendono la conferma dei test che se dovessero funzionare come le analisi fatte in vitro segnerebbero una svolta per il mondo medico che avrebbe un nuovo modo per contrastare l'infezione da coronavirus. Si tratta di un potente diuretico approvato per uso clinico nel trattamento dell'ipertensione degli edemide in sufficienza cardiaca, epatica e renale. Gli studi svolti dal team di ricerca dell'Università di Bari in collaborazione con l'Università Campus Biomedico di Roma hanno permesso di identificare alcuni composti attivi contro il SARS-CoV-2 in grado di inibire un enzima necessario alla replicazione virale utilizzando la strategia di riposizionamento terapeutico dei farmaci che quando ha successo permette di identificare molecole immediatamente utilizzabili per il trattamento di una patologia con un notevole risparmio sui tempi e costi di ricerca e sviluppo. Il gruppo di studiosi si è focalizzato su un particolare enzima di SARS-CoV-2, ovvero la proteasi principale, che opera tagli specifici su alcune proteine virali. Il blocco della proteasi rende impossibile al virus di completare il suo normale ciclo vitale, interrompendo così la sua replicazione. Sono stati considerati più di 2000 farmaci per la loro capacità di inibire l'attività dell'enzima e più promettenti sono stati analizzati sperimentalmente nei laboratori dell'Università Campus Biomedico di Roma per valutare la loro attività inibitoria sull'enzima virale purificato. Le analisi hanno portato a identificare l'acido etaclinico come un promettente inibitore della proteasi di SARS-CoV-2. Il passo successivo sarà valutare clinicamente la sua efficacia e sicurezza nel trattamento della Covid. Grazie. 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 Grazie.